In questo video scoprirete molti aspetti che riguardano la comunicazione. Nella prima parte capiremo come la comunicazione e la salute sono strettamente collegate tra di loro. Poi Andrea Picco ci parlerà dei 5 assiomi della pragmatica della comunicazione umana sui quali si è costruito l'impianto della scuola sistemica di Palo Alto. Poi parleremo di un argomento molto attuale e interessante. Per comunicare in modo efficace possiamo essere assertivi e comprenderemo la differenza che c'è tra uno stile passivo, uno stile aggressivo e uno stile assertivo. L'ultima parte del video sarà dedicata a comprendere che le tecniche della comunicazione non servono a niente se non vi è un'etica, che tutto quello che si può imparare sulla comunicazione dovrebbe avere un fine, promuovere il bene personale, il bene dell'altro, il bene della società in cui ci troviamo.